Cime tempestose, capitolo sesto. Il signor Hindley tornò a casa per i funerali e, cosa che ci sballordì e diede luogo a infiniti pettegolezzi tra i vicini, portava con sé una donna. Chi era, di dov'era, non ce lo disse mai. Probabilmente non aveva né denaro né parentela che potessero raccomandarla, sennò egli non avrebbe nascosto la propria unione al padre. Non era certo donna da portare, per conto suo, un gran disturbo in casa. Tutti gli oggetti che sa vide, dal momento in cui varcò la soglia, sembraron deliziarla. E così pure tutte le cose che avvennero intorno a lei, eccetto i preparativi dei funerali e la presenza di quelli che piangevano il morto. Dal suo contegno in quell'occasione pensai anzi che fosse mezzo scema. Scappò nella sua camera, volle che la seguissi, sebbene io avessi da vestire i ragazzi. E là si sedette tremando, torcendosi le mani e ripetendo ogni tanto «Sono andati via adesso? Sono andati via?» Quindi cominciò a descrivermi con un'eccitazione d'esterica l'effetto che produceva sopra di lei il nero e si scuoteva tutta e tremava e proruppe in una crisi di lacrime. Quando le domandai cosa avesse, rispose che non sapeva, ma che la morte le faceva paura, paura. Pensai che era tanto lontana dal morire quanto me. Piuttosto esile, infatti. Aveva però un bel colorito giovane, fresco, e i suoi occhi sprendevano come diamanti. «Notai, a dire il vero, che il salire le scale la facevano ansare, che al più piccolo rumore improvviso tremava tutta e che ogni tanto tossiva penosamente, ma non sapevo che cosa significassero tali sintomi e non mi sentivo per nulla attratta verso di lei. Noi qui, signor Lockwood, in generale, non ce la facciamo troppo con i forestieri, a meno che non siano loro i primi ad attaccarsi a noi». Il giovane Earnshaw era considerevolmente mutato in tre anni di assenza. Più magro, aveva perduto il suo colorito campagnolo e parlava e vestiva in modo diverso. Il giorno stesso del suo ritorno disse a Joseph e a me che d'ora innanzi avremmo dovuto starcene nel retrocucina e lasciarla casa a lui solo. Avrebbe poi voluto far tappezzare e addobbare a mo' di salotto una piccola camera, ma sua moglie si mostrò tanto compiaciuta del pavimento bianco, dell'enorme camino, dei piatti di peltro, delle maioliche, del canile e di tutto quello spazio che c'era per muoversi, anche laddove si stava quasi sempre seduti, che gli credette inutile il suo progetto al benessere della compagna e vi rinunciò. Essa dimostrò pure una grande gioia per aver trovato nella nuova famiglia una sorella. Nei primi tempi, infatti, chiacchierava sempre con Ketain, andava in giro con lei, la baciava e le faceva una quantità di doni. Ma il suo affetto si stancò presto e quando ella cominciò a mostrarsi di cattivo umore, Indri si fece addirittura tirannico. Qualche parola di lei che dimostrava poca simpatia per Idkripp fu sufficiente a risvegliare tutto il suo odio di un tempo verso il fanciullo. Lo allontanò dalla loro compagnia, ributtandolo in quella dei domestici. Lo privò delle lezioni del curato e insistè perché lavorasse fuori, nei campi, imponendogli un lavoro non meno aspro di quello di tutti gli altri garzoni della fattoria. Idkripp, sulle prime, sopportò abbastanza bene la sua degradazione perché Ketain gli insegnava tutto quel che aveva imparato e giocava o lavorava con lui nei campi. Entrambi promettevano di crescere rozzi come selvaggi. Il giovane padrone non s'occupava assolutamente della loro condotta né di quel che facevano e non avrebbe badato neppure che andassero in chiesa la domenica se Joseph e il parroco non lo avessero rimproverato della sua incuria quando i ragazzi mancavano. Il che finiva con l'ordine di dare una buona staffilata ad Idkripp e di privare Ketain del pranzo o della cena. Uno dei loro divertimenti preferiti era quello di fuggirsene attraverso le paludi alla mattina e di non farsi più vedere per tutta la giornata. La punizione era poi una cosa da ridere. Il curato poteva infliggere a Ketain di imparare a memoria tutti i capitoli che voleva e Joseph battere Ickliff finché le braccia gli facevano male. Essi dimenticavano ogni cosa nel momento in cui potevano ritrovarsi o almeno in cui potevano concertar qualche maligno piano di vendetta. Spesso ho proprio dovuto piangere da sola nel vederli crescere tutti i giorni più trascurati. Senza osar però di dire una sillaba per timore di perdere anche quel briciolo di potere che mi restava su quelle povere creature abbandonate a se stesse. Una domenica sera accadde che i ragazzi furono allontanati dalla sala per aver fatto un po' di chiasso o commesso qualche altra piccola colpa del genere. Quando poi andai a chiamarli per la cena non mi riuscì di trovarli in alcun luogo. Frugammo la casa da cima a fondo il cortile, le stalle essi erano introvabili. Finalmente Indri, furibondo ci disse di sprangare la porta e giurò che per quella notte nessuno più sarebbe entrato. Andarono tutti a letto ma io troppo inquieta per dormire aprì la finestra e mi affacciai ad ascoltare decisa, nonostante il divieto a farli entrare se fossero tornati. Dopo un po' distinsi un rumore di passi che si avvicinavano e la luce di una lanterna brillò attraverso la porta. Mi buttai uno scialle in testa e corsi per avvertirli di non destare bussando il signor Unshaw ma c'era Heathcliff solo. Sobbalzai. Dov'è Katie? gridai affannosamente. Nessuna disgrazia spero. A Trashcross Grange rispose e ci sarei rimasto anch'io se fossero stati tanto gentili da invitarmi. Bene, adesso la vedrai bella. Tu non sarai contento finché non ti manderanno a spasso. Ma qual motivo vi ha spinti a vagabondare dalle parti di Trashcross Grange? Lascia che mi tolga di dosso questi abiti bagnati e ti dirò tutto. Gli raccomandai di star bene attento a non svegliare il padrone e, mentre si svestiva, e io aspettavo per spegnere la candela, egli proseguì. Katie ed io eravamo scappati fuori della lavanderia per fare un giretto in libertà. E vedendo brillare le luci di Trashcross Grange pensammo bene di andare a spiare se i Linton passavano anch'essi la domenica sera a tremarne i cantucci mentre i loro genitori stavano seduti a mangiare, a bere, a ridere e a bruciarsi gli occhi davanti al fuoco. Credi che sia così? O credi forse che la passino a leggere dei sermoni o a farsi catechizzare da un servitore o ad imparare colonne di nomi delle scritture se non rispondono bene. Probabilmente no, Ammonii. Essi sono dei bravi ragazzi e non meritano i trattamenti che ricevete voi due per la vostra cattiva condotta. Non farmi la predica, Nelly. Sono tutte sciocchezze queste. Noi corremmo senza fermarci dalla tempestosa fino al parco e Katie fu completamente battuta nella corsa perché era a piedi nudi. Domani dovrai ripescarle sue scarpe nel pantano. Strisciamo attraverso un buco della siepe, seguimmo a tentoni il sentiero e ci piantammo in mezzo a un'aiola proprio sotto la finestra della sala. La luce veniva di lì essi non avevano chiuso le imposte e le tende erano calate solo a metà. Tutte e due potevamo guardar dentro stando in piedi sul basamento e aggrappandoci al davanzale e vedemmo. Ah, che bellezza! Una stanza splendida con un gran tappeto rosso e le sedie e le tavole coperte di rosso e un soffitto bianchissimo tutto bordato d'oro e poi al centro come una pioggia di gocce di cristallo appese con delle catene d'argento e illuminate dolcemente da una quantità di piccole fiamme. I vecchi Linton non c'erano. Edgar e sua sorella avevano tutto ciò per loro soli. Non avrebbero dovuto essere felici? Noi ci saremmo creduti in paradiso. E invece lo sai che cosa facevano quei bravi ragazzi? Isabella io credo che abbia undici anni uno o meno di Katie era distesa sul pavimento all'altro capo della stanza e strillava come se le streghe la pungessero con gli aghi infuocati. Edgar vicino al fuoco piangeva silenziosamente e in mezzo sulla tavola stava un cagnolino che scuoteva la zampa e guaiva. Noi comprendemmo dalle accuse che si facevano a vicenda che essi lo avevano ridotto quasi in due pezzi a furia di tirarlo ciascuno dalla propria parte. Idioti! Ecco il loro divertimento litigare per chi avrebbe tenuto in mano un pacchetto di peli caldi picchiarsi e mettersi a piangere perché nessuno dei due dopo lo voleva più. Noi ridemmo di cuore nel vedere quei mocciosi e li disprezzammo. Quando mai tu hai visto me desiderare davvero una cosa che anche Katie desiderasse? Quando è che ci hai trovati soli a gridare a piangere a rotolarci sul pavimento ai due lati della camera per passare il tempo? Non cambierei per tutto l'oro del mondo la mia situazione qui con quella di Edgar Linton a Trashcross Grange neppure se potessi avere il permesso di gettare Joseph giù dalla finestra più alta e di dipingere la facciata della casa con il sangue di Hindley. Zitto zitto lo interruppi non mi hai detto ancora in quel modo hai lasciato Katie laggiù. Ti dicevo che noi ridevamo riprese. I Linton ci udirono e insieme si precipitarono come frecce verso la porta. Ci fu un silenzio poi oh mamma mamma oh papà oh mamma venite qui. Davvero urlavano proprio qualche cosa di simile e noi a far rumori terribili per spaventarli di più. Poi abbandonammo il davanzale perché qualcuno stava tirando i catenacci per aprire e ci pareva fosse conveniente darsela a gambe. Io tenevo Catherine per mano e la incitavo a correre presto quando a un tratto essa cadde. Corri Heathcliff corri mi sussurrò hanno sguinzagliato il mastino e son presa. Quel diavolo infatti l'aveva addentata la caviglia. Sentivo il suo brutto brontolio ma lei non gridò oh no se ne sarebbe vergognata fosse stata pure sulle corna di un toro in furia. Io invece urlai urlai delle maledizioni tali da spacciar tutti i diavoli dell'inferno. Presi un sasso lo ficcai tra le mascelle della bestiaccia e spinsi con tutta la mia forza per farglielo arrivare fino in gola. Un idiota di domestico arrivò finalmente con una lanterna gridando ti è duro Skulker ti è duro ma cambiò subito di tono quando vide la preda di Skulker il cane mezzo soffocato fu costretto a lasciarla presa la sua grande lingua rossa gli pendeva mezzo metro fuori di bocca e dalle labbra gli colava una bava sanguigna l'uomo sollevò Katie ella si sentiva male non di paura ne son certo ma di dolore la portò in casa e io dietro sempre gridando e sacramentando che cosa ha preso domandò Linton dall'entrata Skulker ha catturato una fanciulletta signore rispose e c'è qui anche un ragazzo aggiunse mostrandomi il pugno che mi ha tutta l'aria di essere una staffetta forse i ladri volevano farli passare dalla finestra perché poi quando noi fossimo andati a letto avrebbero aperto le porte alla banda e saremmo stati assassinati con tutto comodo taci tu sguaiataccio ladro taci che questa ti costerà la galera signor Linton non abbandoni il fucile no no Robert disse il vecchio rimbambito i malandrini sapevano che ieri era il mio giorno delle riscossioni e credevano di fare un buon colpo vien dentro voglio riceverli per bene là John metti il catenaccio da un po' d'acqua a Skolker Jenny sfidare un magistrato nella sua fortezza è di sabato poi ma dove si arresterà la loro insolenza guarda Mary Cara guarda non aver paura è appena un monello ma gli si legge già chiara la perfidia in faccia non sarebbe un beneficio per il paese farlo impiccar subito prima che possa mostrare anche nelle azioni come nei lineamenti la sua natura mi spinse sotto il lampadario e la signora Linton inforcò gli occhiali alzando le braccia con orrore anche quei vigliacconi di ragazzi cominciarono a strisciar più vicini Isabella balbettò uh che brutto mettilo nella cantina babbo somiglia tutto al figlio dell'indovina che mi rubò il mio fagiano addomesticato non è vero Edgar mentre mi esaminavano Catherine arrivò udì queste ultime parole e si mise a ridere Edgar Linton dopo uno sguardo inquisitore ritrovò abbastanza presenza di spirito per riconoscerla essi si vedono in chiesa sai e raramente altrove questa è la signorina Herschel sussurrò a sua madre guarda come l'ammorsicata Skulker e come sanguina al suo piede la signorina Herschel impossibile gridò la dama la signorina Herschel che scorrazza per il paese con uno zingaro eppure è vero la ragazza è in lutto ma certo è lei e potrebbe rimanere storpia per tutta la vita che colpevole negligenza da parte di suo fratello esclamò il signor Linton volgendosi da me a Catherine ho sentito dire da Shielders era il pastore signor Lockwood che egli la lascia crescere nella più assoluta barbarie ma e questo chi è dove si è trovato un simile compagno giurerei che quello strano acquisto fatto dal nostro defunto vicino nel suo viaggio a Liverpool un piccolo Lascar un rifiuto di Spagna o d'America un discolaccio in ogni modo osservò la signora è per niente adatto ad una casa decente hai notato il suo linguaggio Linton mi rincresce che i miei ragazzi lo abbiano udito io ricominciai a bestemmiare non arrabbiarti Nelly e così Robert ricevette l'ordine di mettermi alla porta rifiutavo di andarmene senza Katie ma egli mi trascinò nel giardino mi mise a forza la lanterna fra le mani mi assicurò che il signor Urshaw sarebbe stato informato della mia condotta e ordinandomi di filare diritto richiuse la porta le tende erano ancora rialzate in un angolo e io ripresi il mio posto d'osservazione già che se Catherine avesse desiderato venire via e loro non glielo avessero permesso ero ben deciso a mandare i vetri in un milione di pezzi essa era tranquillamente seduta sul divano la signora Linton le tolse il cappotto grigio della lattaia che avevamo preso per la nostra escursione e intanto scuoteva la testa facendole immagino dei rimproveri Katie è una signorina e il trattamento che le usavano era ben diverso da quello usato a me poi la domestica portò una catinella d'acqua calda e le lavò i piedi il signor Linton le preparò un gran bicchier d'acqua vino e zucchero e Isabella le riempì il grembiule di pasticcini mentre Edgar la contemplava da lontano a bocca aperta poi le asciugarono i bei capelli glieli pettinarono le diedero un paio di enormi pantofole e la spinsero vicino al fuoco io la lasciai là allegra come una pasqua a dividere i suoi dolci fra il cagnolino e scolker che si lasciava pizzicare il muso pur di mangiare solo nel guardarla anche tutti quegli occhi pallidi di linton brillavano un po' per riflesso del suo faccino così bello vedi bene che erano come i stupiditi di ammirazione lei è così superiore a loro e a chiunque altro non è vero nelli e questa storia avrà delle conseguenze più gravi di quanto tu non creda risposi coprendolo bene e spegnendo il lume tu sei incorregibile i cliff e il signor urshaw sarà costretto a ricorrere ai mezzi estremi vedrai le mie parole si avverarono assai più che non desiderassi quella disgraziata avventura rese ingli furioso poi il signor linton per arrangiare la faccenda venne lui stesso alla tempestosa il giorno seguente e fece al giovane padrone una tal predica sulla via nella quale guidava la famiglia che gli fu costretto a considerare seriamente ciò che avveniva intorno a lui it cliff non venne frustato ma gli fu detto che alla prima parola rivolta a Catherine sarebbe stato irremissibilmente scacciato la signora Urshaw poi intraprese ad insegnare un po' di contegno alla propria cognata non appena tornò a casa giocando d'astuzia ben inteso e non di forza che con la forza non avrebbe certo ottenuto risultato alcuno